Sofì Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia che ha fatto sognare tutti al grande fratello Vip. Sembrava destinata a una storia d'amore eterna con l'arrivo della figlia Selene Blu. Tuttavia, improvvisamente, tutto è cambiato. Durante un'apparizione a Verissimo, si sono accusati reciprocamente. Con Sofì che ha confessato di aver subito un tradimento. Alessandro Basciano, però, ha smentito di essere stato infedele durante un viaggio a Ibiza. Recentemente, sono emerse delle segnalazioni su di loro che stanno sconvolgendo i fan Su un social network. Immagini e video stanno diventando virali. Rivelando una sorpresa inaspettata Secondo le dichiarazioni di Alessandro Basciano a Silvia Toffanin, Sofì Codegoni l'avrebbe lasciato perché influenzata eccessivamente dalla famiglia, in particolare dalla madre. Già da febbraio si parlava di un cambiamento nel loro rapporto. Ma ora delle foto pubblicate potrebbero stravolgere la situazione. Le voci sembrano confermare che Sofì e Basciano siano tornati insieme. Come dichiarato da un utente dell'influencer Dejanira Marzano. I due sono stati avvistati all'Ikea di Carugate, in provincia di Milano, e successivamente sono stati visti ad un concerto. Durante il concerto di M.R. Reign, alcuni fan li hanno notati in atteggiamenti intimi. Confermando che la coppia è di nuovo insieme e che la loro felicità è ai massimi livicelli. Non ci sono più dubbi sulla loro riconciliazione. E i fan non possono che essere felici per loro. Grazie a tutti.